Le istituzioni devono tenere alta la guardia, continuare nel proprio impegno, fare buone leggi, ma anche promuovere figure positive, perché le leggi servono ma non bastano, allora ci vuole cultura, questo lo diceva anche Felice Impastato, ci vuole cultura e poi ci vuole consapevolezza che chi si presta al messaggio mafioso non ha futuro, non ha vita, non ha seguito e quindi che bisogna farsi strada attraverso i propri mezzi e onestamente questo è il messaggio che ci manda Felice Impastato e tante altre donne come Lea Garofalo che hanno detto no alla criminalità organizzata e purtroppo però questo loro rifiuto è stato anche per loro la fine della loro esistenza. Oggi è importante dare riconoscimento a queste figure proprio perché nella loro lotta loro hanno dato anche la vita, quindi hanno fatto un dono estremo per i giovani perché appunto si capisca quanto sia dannosa la cultura mafiosa.